Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi domenica 26 agosto. Vediamo subito che cosa ci riservano i giornali di oggi. Lo sapete tutti quanti, ormai a questo punto era sui siti di oggi, se ne parla sui social network, Salvini è stato indagato dalla procura di Agrigento, ha anche indagato il capo di gabinetto. Mi spazio particolarmente per il capo di gabinetto, ve lo devo dire la verità, perché Salvini ne farà una grande questione politica, giustamente, e il capo di gabinetto invece è uno di quei classici funzionari che tocca che magari si paga pure l'avvocato e che avrà problemi per tutta la sua carriera, mentre per Salvini c'è il Tribunale dei Ministri, come sapete, come un magistrato non può indagare un ministro senza che passi il vaglio del cosiddetto Tribunale dei Ministri, quella roba partitocratica della Prima Repubblica, per cui paradosso dei paradossi oggi ne beneficeranno, anche se indirettamente, anche i nuovi governanti populisti. Ma perché è stato indagato Salvini e perché cosa è stato indagato Salvini? Sentite un po' i capi di imputazione della procura di Agrigento, sequestro di persona, arresto illegale, abuso d'ufficio, vabbè quello non si nega a nessuno, non c'è un amministratore pubblico che non abbia avuto un abuso d'ufficio, insomma Salvini rischia non so quante decine di anni di carcere per il suo comportamento sulla nave Diciotti, cioè la nave della Guardia Costiera che non si capisce perché in acque maltesi ha salvato, fino a prova contraria, prima li ha salvati e secondo la procura li avrebbe poi sequestrati. Questo è l'atteggiamento dello Stato italiano, mi sembra soltanto il tempo lo nota o il libero lo nota nel suo titolo e cioè viene indagato il titolare di un minastero che poi alla fine salva questi 177 profughi. Il giorno in cui viene indagato Salvini è esattamente il giorno in cui si ha un accorto per la ridistribuzione di questi profughi che andranno in parte alla CEI, cioè la chiesa italiana, in parte all'Irlanda del Sud, mi viene da ridere, e in parte la cosa questa veramente più incredibile all'Albania. Perché incredibile? Perché l'Albania non è fino a prova contraria un paese europeo nel quale si vedono tutti quanti questi paesi che si sono messi insieme per arrivare a un accordo europeo. Bene, in Albania vanno a finite questi ritrei. Sulla chiesa il ragionamento è semplice perché si tratta comunque di cristiani eritrei e davvero in questo caso perseguitati dal regime. Sulla questione, ci sono poche parole se non nella ridicolaggine di questa indagine come vi è del tutto chiaro, il Fatto Quotidiano, un giornale del Partito Giallo Verde, anzi del Partito Giallo, oggi che cosa dice? Affonda Salvini, godono come De Ricci perché la componente leghista è quella che affonda. Di Maio invece dice una cosa su altri giornali, mi sembra su giornali nazionali, dice non si deve dimettere, cioè non si deve dimettere Salvini. Qual è il motivo per il quale lo dice, fa questa esternazione Di Maio? Per un motivo molto semplice che fino a un po' di tempo fa, ve lo ricordate? Onestà, onestà, non vogliamo gli indagati, non vogliamo... Questo è indagato per sequestro di persona, cosa una minchiata chiaramente, ma secondo gli stessi criteri loro, questo quasi sarebbe dovuto dimettere. È evidente che poi quando si governa ci si accorge di che cosa siano gli atteggiamenti della magistratura e che una persona per bene come Salvini possa essere indagato per sequestro di persona. Commenti? Bisignani oggi sul tempo dice ora prepariamoci al voto perché con questo tira e molla si andrà al voto e in realtà la Lega tutta la voglia di andare al voto per capitalizzare questa sua posizione dura nei confronti dell'immigrazione. Fa scopa questo articolo con un retroscena del Corriere della Sera in cui si dice che Di Maio ha detto sbrigati Salvini a trovare una soluzione perché qua i miei non li tengo. Nel senso che il partito di Fico della Nunes che viene intervistata ogni volta che si parla di immigrazione perché bisogna sempre trovare una minoranza nel Movimento 5 Stelle insomma anche il Movimento 5 Stelle questa linea dura sull'immigrazione non c'è. Il pezzo che mi ha sconvolto si fa per dire qua non ci si sconvolge quando un ministro viene indagato per sequestro di persona ci si può sconvolgere proprio per quello che noi giornalisti scriviamo sorgi oggi sulla stampa. Perché mi sconvolge? Perché voglio dire la critica nei confronti di Salvini è legittima ed è sempre ovviamente benvenuta come sempre si deve criticare chi governa dice Salvini non voleva altro che questo però poi dopo sorgi si lascia andare su delle considerazioni che secondo me sono incredibili e dice vive sulle macerie dell'Europa cioè le macerie dell'Europa li riviverebbero da Salvini e uno dei motivi per i quali si sarebbero create queste macerie dell'Europa che secondo me sono create dalle guerre non dettaggiamenti di Salvini nei confronti dell'immigrazione sapete quali sarebbe? Salvini calpesta l'Europa eccetera perché addirittura martedì prossimo si vedrà con il primo ministro ungherese Orban. Allora io voglio capire Salvini ministro dell'Italia italiano se si vede col primo ministro di uno dei 27 paesi che fanno parte dell'Europa calpesta l'Europa soltanto perché non la pensa come sorgi soltanto perché non la pensa come tutti la devono pensare con la politica dell'accoglienza più serio il ragionamento se volete di Minniti cioè quello che dice oggi non c'è un'emergenza poco serio nell'intervista di Minniti e quando Minniti non dice l'emergenza non c'è perché prima io e poi Salvini ma prima io potevo anche rivendicarlo abbiamo chiuso quella politica assurda dell'accoglienza perché ricordiamoci che fino a un anno e mezzo fa c'era fuoco a mare c'erano le pippe che ci facevamo sui giornali come quella di oggi di Saviano incredibile su Repubblica che sembra veramente una barzelletta il modello Riace cioè quel paese in cui ci sono più immigrati che cittadini la desertificazione del sud come la risolviamo col modello Riace ecco questo era il clima fino a un anno e mezzo fa due anni fa oggi caro sorgi il clima è un altro semplicemente in reazione a quelle minchiate che i giornali hanno scritto cioè della fantastica immigrazione che avrebbe risolto i problemi delle pensioni i problemi della desertificazione del sud il problema della sanità in Italia che negava qualsiasi criticità nell'immigrazione ecco quindi il problema è che Salvini si vede con Orban nel frattempo io segnalerei ai giornalisti italiani anzi quelli che non leggono il messaggero che nella prima pagina del messaggero di oggi sapete che abbiamo intervistato il prossimo presidente dell'unione europea sapete chi è il prossimo presidente dell'unione europea si chiama Kurz Kurz non è una barzelletta diciamo dei film di serie b italiani degli anni 80 con fantozzi non è quello che gli dava le polpette che mangiava le polpette di nascosto del dottor Kurz non so come cacchio si chiamava è un 37enne che guiderà l'unione europea e questo 37enne è alleato austriaco cancelliere austriaco è alleato con un partito considerato il giornale italiana di estrema destra che si chiama FPO e che questo cavolo di Kurz sapete che cosa dice oggi sul messaggero non è Orban il presidente dell'unione europea a cui sorgi pregherebbe di avere un'intervista invece un'intervista oggi dal messaggero e sapete che cosa ci dice questo signore dice che l'immigrazione in europa non ci deve essere irregolare e che bisogna mandarli via così fa questo gesto della mano il l'austriaco bisogna pensare che l'europa è questa roba qui oggi perché alcune differenze di sorgi di altri pensano che l'europa non possa subire questo processo di immigrazione tra l'altro io l'intervista di Kurz la farei leggere anche i nostri amici salvini e diciamo i sovranisti i supernazionalisti perché poi quando quello dice non riesco a capire quale sia il problema che noi si voglia dare il doppio passaporto ai tirolesi insomma io ho un po' di paura da nazionalista italiano o comunque da un uomo che considera il Trentino Alto Adige e considera il Frido di Venezia Giulia che considera Sicilia, considera la Sardegna, considera la Valle d'Aosta, le cinque regioni al statuto speciale per un bel motivo dopo la guerra per tenere unita questa patria insomma qualche piccola preoccupazione ce l'ho quando il cancelliere austriaco mi dice che chiuderà il Brennero che vuole il doppio passaporto cioè è evidente ma non con il tema di Sorgi e cioè che non si può incontrare Orban perché il presidente l'Unione Europea si chiama Kurz è cambiato tutto non è più Delors non è più Prodi non è più questa gente qua bene o male questo è la nuova generazione di quelli che in Europa hanno un peso che altro vi volevo dire? Minniti ve ne ho parlato l'intervista a Minniti nel frattempo mentre la magistratura è così solerte a indagare per sequestro di persona Salvini oggi sul Corriere della Sera il magistrato di Bologna che indaga sul Ponte Morandi dice una cosa molto semplice sul Ponte Morandi non lo buttiamo giù non c'è fretta siccome non ci sono rischi finché non mi dicono che non c'è un rischio anche prima dicevano che non c'erano rischi adesso dice non ci sono rischi siccome non ci sono rischi quella è una fonte di prove e quindi noi teniamo sul Ponte Morandi allora questo è la magistratura in Italia una parte della magistratura cioè la forma questo conta non la sostanza quindi noi col cazzo che faremo un ponte in otto mesi perché abbiamo tolto le concessioni e l'autostrada non si discute perché non vogliamo i suoi 500 milioni perché i magistrati non vogliono buttare giù un cazzo di ponte che deve essere buttato giù perché si deve rifare il prima possibile la viabilità in quella regione d'Italia perché se no muore la Liguria muore il porto di Genova muore Savona muore la possibilità di fare affari che è la base con la quale quel magistrato viene pagato se no quel magistrato non viene pagato con i soldi di Babbo Natale ma con quelli dei contribuenti anche quelli genovesi che non lavoreranno più anche con i tir che non passeranno più anche con il traffico che ci sarà in più va bene quindi c'è fretta anche se il ponte non cade c'è fretta di rifare quel ponte chiaro? e quindi le fonti di prove fai le foto fai le cose metti a lavorare 44 ore al giorno non 24 ma c'è fretta io trovo incredibile che ci sia la fretta di indagare Salvini e non c'è la fretta di buttare giù quel ponte per rimettere subito un'alternativa a quel ponte mi sembra che questo commento oggi non ci sia riguardo alla discriminazione invece c'è stata una grande sentenza del Tribunale Civile di Bologna oggi lo trovate soltanto sulla prima pagina del Corriere di Bologna è una storia stupenda perché l'Unipol, sapete l'assicurazione un tempo dei furbetti e poi diciamo delle cooperative rosse e poi diciamo la grande compagnia assicurativa della sinistra emiliana beh l'Unipol c'è una compagnia che si chiama Linear un'ottima compagnia che fa la concorrenza a tutte le compagnie online e che cosa ha fatto Linear? evidentemente si è permesso di fare polizze con prezzi diversi a seconda se si è stranieri o italiani per evidenti motivi forse statistici per i quali forse uno straniero ha una possibilità di fare più incidenti che un italiano perché conosce meno il traffico dei gano io non ne ho la più pallida idea ma dubito che sia per un motivo diciamo razzistico bene e sapete che cosa è successo? il Tribunale Civile di Bologna che cosa ha fatto? il Tribunale Civile di Bologna ha condannato per discriminazione le polizze di Linear Unipol lo trovate oggi sul Corriere di Bologna mi si chiama prima pagina sul Corriere di Bologna io questo fatto che sia stata condannata la Unipol e la sua controllata Linear per discriminazione per le polizze la trovo fantastica insomma i romani, i napoletani, i baresi per i quali per assicurare una macchina gli costa dieci volte più di un comasco o di un lombardo da ora in poi potranno dire ci discriminate perché terrori no, discriminano quelli perché stranieri e quelli altri perché terrori io lo metterei sullo stesso piano facciamo una grande class action perché per anni quando io c'avevo il motorino a Roma mi costava di più che averlo a Milano per il semplice motivo che a Roma me lo facciano pagare di più l'RC Auto sbagliatissimo, discriminazione voglio trovare anch'io un giudice non a Berlino ma a Roma o a Bologna come nel caso di Linear lo scoop della giornata, l'intervista a Curse leggetevela è tutta da leggere lo scoop della giornata la fa La Verità di Belpietro perché c'è una lettera, un dossier del Monsignor Viganò arcivescovo Viganò che nunzio apostolico negli Stati Uniti che dice il Papa sapeva degli abusi sessuali di un cardinale di un cardinale omosessuale nei confronti dei suoi, di tante persone ma non ha mai voluto il Papa prima Giovanni Paolo, prima Ratzinger e poi l'attuale Papa non hanno mai voluto denunciarlo quindi grandissimo scandalo nella Chiesa non tanto per l'esistenza del prete omosessuale non tanto per l'esistenza degli abusi cose che già si conoscevano ma dice la verità con l'articolo di Viganò perché coperto dalle strutture più alte del sacerdozio e della Chiesa mondiale addirittura del Papa vedremo quale e quanti ripercussioni avrà lo scoop della verità ma oggi l'unica notizia che conta è, adesso ne parlo diciamo con ironia ma mica tanto perché si tratta della morte di McCain quello che non riusciamo a descrivere in questa zuppa ma essere stato il vero grande eroe della guerra del Vietnam o meglio il simbolo del figlio di papà come era McCain figlio di un grandissimo ammiraglio negli Stati Uniti che cade col suo aereo viene ferito viene pestato a sangue da chi lo recupera viene tenuto in prigionia per cinque anni insomma non tradisce mai la sua nazione e non racconta nulla di quello che forse poco sapeva ma che comunque non si è permesso mai di raccontare ritorna dopo cinque anni in patria dopo essere stato torturato e diciamo aver fatto una vita incredibile nei campi di concentramento nord vietnamita viene poi candidato alla presidenza della Repubblica Americana perdendo ed è morto purtroppo questa notte riposo in pace dicono tutti quanti domani vedremo sui giornali il suo ricordo mentre per quanto mi riguarda è tutto più tardi vedrete sul sito nicolaporro.it tutti gli altri aggiornamenti della giornata in cui tutti sono indagati tranne il ponte Morandi ciao